Fede e tradizione in centinaia anche quest'anno nella vigilia della solennità dell'assunzione di Maria hanno partecipato alla processione dal Santuario delle Vertighe al casello autostradale di Monte San Savino. La devozione per la Madonna delle Vertighe è antichissima e dal 1964 è stata proclamata Celeste Patrona dell'Autostrada del Sole. Anche quest'anno i fedeli guidati dalla Fraternità Francescana di Betania e dal Vescovo Fontana hanno benedetto il principale tratto autostradale italiano al Santuario delle Vertighe. Le celebrazioni continuano per tutta la giornata del 15 agosto. Siamo felici del fatto che questo santuario rimanga un riferimento spirituale per la Valle di Chiana e per la Diocesi. Siamo qui per servire il Signore e servirlo innanzitutto attraverso le celebrazioni e le confessioni. E poi sicuramente un momento di festa con la fiera, con i fuochi d'artificio. Perché insomma la festa di Dio è anche festa dell'uomo.